Parliamo oggi del calciomercato di Lotito e Fabiani che chiudono una finestra particolare in cui sicuramente ci sono stati grossi sviluppi ed è tempo di parlarne, è tempo di parlarne a 360 gradi avendo il quadro ben preciso della situazione secondo me è un mercato con tante ombre, qualche luce importante però è un mercato che complessivamente a me non comincia pieno anche se certi colpi sono davvero molto molto interessanti, in ogni caso prima di vedere nel dettaglio cessioni e acquisti e la loro relativa secondo me, vi ripeto a mio avviso, valutazione in ambito Lazio e in ambito Lazio di Baroni ancor più nello specifico, iscrivetevi, tanti like e tanti commenti qui sotto e seguitemi anche sugli altri social detto questo tanti like se volete che la serie vada avanti anche con altre squadre detto ciò, allora, la Lazio si è trovata secondo me a rifondare quest'anno, ha cambiato tantissimo ha cambiato l'allenatore e ha cambiato progetto perché secondo me con Tudor c'era un progetto X con Baroni c'è un progetto Y, quindi cambia tanto, scelta che in partenza non ho condiviso per esempio ho condiviso in qualche modo l'addio di Sarri ora Fabiani settimane fa ha parlato e ha detto che è stato causato in qualche modo non da ragioni tecnico-tattico di spogliatoio quanto personali di Sarri quindi non mi permetto di giudicare, però secondo me all'ila di tutto Sarri aveva fatto un po' il suo tempo e la squadra mi sembrava palese che non seguisse più Sarri e anche le lacrime di Coccodrillo al tempo di Immobile o di altri senatori non è che mi abbiano convinto più di tanto perché comunque la Lazio a quel punto secondo me era abbastanza evidente che non giocava più per Sarri ma al massimo nonostante Sarri proprio se non era un contro Sarri passatemi i termini magari non proprio grammaticalmente ortodossi Tudor è stata un'ottima scelta anche perché uno, a marzo di meglio non trovi e due Tudor secondo me era un allenatore anche da progetto biennale era uno con cui puoi costruire un qualcosa di, non voglio dire importante che vinci lo Scudetto però è un allenatore con cui secondo me puoi costruire una squadra da Champions League ovvio che non è Conte, non è Ancelotti è un allenatore che si sta ancora formando ma che ha fatto bene a Verona e ha fatto bene a Marsiglia quindi ha fatto bene in Serie A in una piazza che non è una piazza diciamo piccola nel senso più puro della parola perché comunque Verona nonostante il Verona da anni fa c'ha abbastanza male tranne che con Tudor è una piazza abbastanza esigente comunque anche il tifo è caldo di conseguenza non è una piazza secondo me semplice perché è esigente ma le risorse sono poche e ha fatto bene a Marsiglia in una squadra più internazionale, più di livello europeo quindi secondo me Tudor era un buon allenatore addio di Tudor, addio di tanti senatori perché se andiamo a vedere le cessioni o meglio gli addi vari, cessioni, prestiti, parametri zero comunque un po' di gente è andata via i più importanti, Luis Alberto che secondo me era il giocatore uno dei tecnicamente più forti in Serie A uno dei giocatori più tecnicamente forti in Serie A e è andato via Immobile che era il capitano anche se secondo me l'addio di Immobile è stato giusto è stato giusto ma non per altro perché comunque anche Immobile come tanti altri giocatori in tanti club hanno fatto aveva fatto il suo tempo secondo me ad una certa i giocatori devono anche i più grandi, anche i più forti devono rendersi conto che non possono più dare quello che la gente si aspetta da loro e quello che loro pretendono da loro stessi Immobile secondo me era un giocatore che ormai in Serie A aveva fatto il suo tempo in Turchia sta andando benissimo ma non per questo secondo me se fosse rimasto alla Lazio avrebbe fatto particolarmente bene comunque cessioni importanti vi stavo dicendo Luis Alberto, Immobile secondo me Luis Alberto diciamo già più evitabile se ne va anche Felipe Anderson a parametro zero e se ne va non per ultimo comunque di quelli importanti vi ripeto sempre Kamada che lascia per diciamo a titolo gratuito comunque per scadenza di contratto sapete benissimo la questione Kamada in cui secondo me la Lazio non ha colpe anzi Fabiani e Lotito si sono comportati bene perché non è neanche accettabile cedere ai ricatti dei procuratori però posto che è stato giusto l'addio di Kamada anche se doloroso andavano secondo me presi i giocatori più forti andava fatto un mercato più sostanzioso perché? Qual è la ragione? allora o si punta sui giovani e quindi si fa una rifondazione totale con un progetto giovani io non sopporto proprio concettualmente i progetti che non hanno uno scopo quindi tu se mi punti sui giovani lo accetto è un'idea poi si può sbagliare si può fare bene ma hai un'idea e la porti fino in fondo quindi mi prendi un allenatore che sa lavorare bene con i giovani mi prendi i giovani ma non possono essere giovani tutte scommesse dalla serie B devono essere anche giovani magari qualche investimento più importante Greenwood è giovane ma era un investimento spaventoso per la resa spaventoso sicuramente era un investimento economicamente importante ma era un investimento che ti poteva fruttare tanto veramente tanto quindi secondo me era un investimento da fare se si voleva puntare sui giovani svecchiando la rosa e rifondando invece la Lazio non punta alla fine neanche così tanto sui giovani perché va su giocatori di mezza età e anche qualcuno oltre la mezza età calcistica si intende e non fa neanche questi colpi che vanno secondo me a colmare le lacune che c'erano dopo gli addi che vi ho appena detto perché comunque che se ne va Luisa Alberto che se ne va Camada il centrocampo perde tantissimo Camada il Camada di Tudor non era il Camada di Sarri era un altro Camada era un giocatore molto più importante all'interno della squadra e quindi serviva secondo me un qualcosa di più proprio dopo l'addio di Camada e questo in più non è arrivato a mio avviso non è arrivato non c'è stato quel qualcosa in più per fare il grande passo perché andiamo ora ad analizzare gli acquisti nella Lazio e la Lazio prende Ciaunà dalla Salernitana che secondo me ci può stare comunque ha fatto benino l'anno scorso in una squadra che ha fatto malissimo quindi sicuramente è stato uno dei più positivi della sua squadra è abbastanza giovane secondo me se la può fare bene se la può cavare è una scommessa ma è una scommessa che avrei corso anche io e che quindi approvo Noslin che forse nonostante non sia partito benissimo il giocatore che mi affascina di più a me piace tanto è duttile è un jolly conosce Baroni secondo me era quello che serviva quello che mancava e hanno fatto bene a prenderlo anche perché comunque se io non condivido la scelta di Baroni in partenza non mi non credo che sia il simbolo di un progetto ambizioso vi ripeto se vuoi puntare su un giovane punti su un allenatore giovane anche che ne so la butto lì un Farioli per dirne uno e mi va bene magari può essere anche una scommessa perché non ha mai allenato ad alti livelli in serie A però è una scommessa che ci può stare che tu mi vada a prendere Baroni che con tutto il rispetto è un sessantenne quindi è un allenatore anche abbastanza avanti con l'età non è un ragazzino che non ha mai avuto queste grandissime esperienze se permettete mi lascia perplesso proprio sulla serietà e sulla sull'ambizione del progetto mi va a prendere Delle Bashiru che secondo me è un colpo abbastanza non dico fallimentare però un giocatore mi ricorda molto il Camarà della Roma ve lo ricordate giocatore per carità a livello fisico bravo correva si dannava in campo quindi sempre dal campo usciva con la maglia zuppa però a livello tecnico e tattico troppi limiti un giocatore troppo indisciplinato tatticamente è abbastanza scarso tecnicamente quindi non mi convince Castrovilli è una scommessa che non avrei corso sinceramente anche perché poi ora parliamo pure dell'aspetto comunicativo però mi prendi Castrovilli qualcuno diceva ok come Giolli va a giocare interno di centrocampo gioca a mezzala secondo me alla fine Castrovilli farà il trequartista o comunque dubito che in un 4-2-3-1 Castrovilli vada a fare il giocatore davanti alla difesa ne dubito molto fortemente prendi Nuno Tavares forse uno dei migliori insieme a Noslin secondo me ve l'ho detto subito a lui quando è stato chiuso al di là della grandissima prestazione con il Milan secondo me è un esterno che se sta in forma fisicamente si mangia mezza serie A a parte che ha bullizzato Emerson Royal che è un altro giocatore comunque secondo me bravo quantomeno bravo ma Nuno Tavares uno che fisicamente è molto forte e tecnicamente è bravo anche i cross che ha messo in mezzo al di là della fisicità che potrebbe avere anche uno Jordan Lukaku qualsiasi è un giocatore tecnicamente valido quindi lo approvo Di A che mi comincio un po' poco ma non perché Di A sia scarso si è visto anche comunque contro il Milan a parte che ha fatto gol ma che è un giocatore che può giocare secondo me non è una prima punta quindi alla Lazio in tante partite in partite contro squadre magari che in cui ti servirebbe non tanto l'attacco leggero che contro il Milan è stato secondo me ottimo perché ha mandato in tilt la difesa lenta e veramente messa male del Milan contro squadre invece diciamo contro squadre che giocano in un modo che agevola la prima punta e ce ne stanno tantissime anche in Serie A la Riete il bomber vero la Lazio non ha un bomber vero perché Castellano e Sedia sono due giocatori validi se c'è una prima punta quindi se tu mi prendi non lo so un Mauro Icardi anche per farvi un nome di un giocatore che è sparito e che quindi secondo me avrebbe anche accettato volentieri un eventuale interesse bianco celeste se tu mi prendi un giocatore così come riserva come alternativa meglio vanno benissimo sia Castellanos che Di A che ti offrono quello che Icardi non ti offre ovvero più movimento più dinamismo in campo se però tu mi prendi Castellanos e Di A ti manca il giocatore il bomber d'area al di là dei gol perché Di A ha fatto anche i 16 gol lo sappiamo tutti secondo me proprio come caratteristiche non è un bomber non è un numero 9 puro e secondo me quello manca prendono anche Gigo l'ultimo giorno di mercato al posto di Casale non ci può stare comunque un affare da 7 nulla di più nulla di meno e il mercato praticamente si è concluso così quindi è un mercato secondo me non positivo perché è pieno di scommesse ma mi è sembrato un po' come il calciomercato della Roma qualche buon colpo sicuramente però senza un'idea di fondo secondo me più importante l'idea di fondo che i giocatori in sé perché se c'è un'idea prendi giocatori sempre funzionali se non c'è un'idea puoi anche prendere giocatori magari più bravi tecnicamente ma se non sono funzionali hanno poco senso vi ripeto Di A non è un giocatore scarso non oserei mai definire Di A secondo me secondo me un giocatore poco funzionale al progetto perché manca un altro giocatore più funzionale ovvero il bomber se poi la via castellano se prendi Di A ci posso stare se mi prendi Di A che ha rappresentato un'occasione di mercato più che secondo me l'obiettivo numero uno per inserirlo in questa Lazio non mi convince non mi convince quello certamente certamente questo bisogna anche dirlo è stata gestita malissimo la campagna acquisti a livello comunicativo perché che lo tito mi prometta un giocatore dieci volte più forte di Greenwood e poi non arrivi nessuno neanche Folonuscio che comunque ci poteva stare secondo me non era male non è Greenwood mai nella vita ma ci poteva stare e alla fine il trequartista chi sarà Dele Baciru Castrovilli Di A adattato e quindi non è neanche una riserva d'attacco capite bene che o Noslin che è un gioglio e fa tutto capite bene che manca manca quel giocatore lì con Greenwood sarebbe stato secondo me un buon mercato ma si è visto anche Greenwood la partenza che ha avuto in Ligan con De Zerbi per comunque farci capire di che pasta sia fatto in generale secondo me manca manca più di qualcosa questa Lazio una squadra che ha fatto un mercato così e così fra luce e ombre secondo me non è riuscita a rimpiazzare adeguatamente le grandi partenze dell'anno scorso anche e soprattutto a livello di leadership perché comunque manca manca esperienza manca un po' la coesione e alla fine i pilastri su cui si poggiava la Lazio secondo me sono stati negli anni 3 al di là di Inzaghi e dell'allenatore Milinkovic andato via l'anno scorso Luis Alberto andato via quest'anno e Immobile andato via quest'anno la Lazio non è riuscita secondo me a fare fronte a queste partenze in maniera adeguata la sufficienza non la prende e secondo me io do alla Lazio lo stesso voto della Roma ovvero 5 e mezzo per il mercato perché hanno compiuto un po' gli stessi errori ovvero si sono mossi a tentativi fiutando occasioni ma senza un disegno preciso disegno che invece a mio avviso ha avuto il Napoli per esempio Lazio e Roma non hanno avuto questo disegno e ne hanno pagato le conseguenze qualche buon giocatore entrambi sicuramente sì ma senza riuscire a in qualche modo soddisfare il progetto che si aveva in mente che vi ripeto secondo me era un progetto di svecchiamento e di investimento sui giovani e poi invece è andato un po' così ha preso una piega un po' diversa al mercato e la Lazio non è riuscita a stare dietro alle esigenze di un allenatore che è stato un po' buttato lì in maniera quasi quasi casuale anche la scelta del tecnico mi lascia molto perplesso quindi voto 5,5 adesso però tocca a voi iscrivete qui sotto anche la vostra opinione iscrivetevi al canale e che cos'altro lasciate tanti tanti like ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti